ecco siamo qui a documentare come questo paese le discariche non abbiano mai termine qua si tratta siamo garda qua provincia di verona in una zona alleggiare siamo appunto qua innanzi come si diceva a uno scarico di materiali abusivo di cui si tratta in questo particolare modo di scarico di materiali sempre edili che l'atterizzi vari pietre che è stati scaricati così qua nel legretto del torrente gusa ecco questo fatto fa pensare anche perché scaricare materiali edili anche di più piccola consistenza in questo modo qua potrebbe creare successivamente dei fenomeni a catena quando c'è l'acqua che scende in maniera rilevante di scarico dei materiali a valle e con conseguenze per la popolazione per il territorio quindi anche questo fatto qua siamo all'ennesima situazione come abbiamo già segnalato altre volte di scariche abusive questa meno consistente di quella località peagne dove per circa 6 7 mesi si è fatto quello che è voluto nonostante le ordinanze del sindaco e nonostante che il titolare avesse assicurato la rimozione dei materiali siamo ancora qui a segnalare altri fenomeni di discarico dei materiali la discarica di peagne tutt'oggi sotto indagine arpa e magari avverranno altri accertamenti dell'autorità competenti per capire cosa è successo tra il comune il titolare che aveva segnalato la rimozione della discarica che poi non è stata rimossa in questo caso bisogna vigilare perché come si vede qua il torrente gusola è in realtà soggetto anche qua di scarichi abusivi che sono non controllati dalla pubblica autorità a prossimamente anche se vede qua